salve vorrei iscrivermi a questo vostro nuovo social perché nuovo vero certo verissimo e come si chiama social social solo social cioè senza solo social punto e senza punto le piace non saprei ma cosa mi può dire di più o ecco vede una volta è scritto lei avrà la possibilità di scegliere un nickname come nome del profilo potrà caricare un'immagine quale avatar di quest'ultimo e potrà postare all'interno della sua pagina frase immagini anche video le piace ma non è così originale non offrite qualcosa di innovativo scherza prima di tutto noi siamo i primi a mettere a disposizione degli utenti una funzione del tutto sperimentale che sarà il must del terzo millennio sarebbe i caratteri ipnotici cosa i caratteri ipnotici giovane dal nickname alle condivisioni di stato passando per i post più corposi le parole digitate con le suddette lettere garantiscono l'ammaliamento totale del lettore di turno il quale non potrà fare a meno di condividere qualsiasi cosa abbia letto le piace non è male ma io non è che tenga particolarmente alla viralità di ciò che penso capisco ho inteso il tipo lei è single sì perché ecco mi lasci rivelarla un'altra chicca della nostra piattaforma riguardo all'avatar come è scritto lei avrà subito attiva l'opzione virus d'amore e di che si tratta ma di un algoritmo a seduzione miata il quale permette di modificare la propria foto personale a seconda della preda preda sì della persona che si vuole conquistare se preferisci preferisco scusi preda mi sa di cacciatore o peggio certo si figuri ma io sono come lei all'antica veramente ho 16 anni io pure scherzo comunque una volta indicata al sistema la persona amata il software elabora una fotografia perfettamente in grado di farla innamorare garantito al mille per mille le piace per vedere io non sono uno di quelli che basso internet per rimorchiare certamente mi rendo conto ma noi abbiamo pensato a tutte le tipologie si immagini ecco perché con sincero orgoglio che vado a illustrarle il nostro fiore all'occhiello cos'è le spiego subito lei sa bene che i vecchi social network sono pieni di profili fasulli che una volta gestiscono migliaia di utenze fake e che le vendono al miglior referente come risultato abbiamo una miriade di gruppi e pagine piene di followers inesistenti che però gli garantiscono popolarità e addirittura autorità ebbene noi siamo oltre perché noi siamo veri non fake cioè noi ci siamo sul serio amico le basta passare al pacchetto pro pagando una modica cifra pensile e mettere la spunta sulla funzione comitiva adorante e di cosa si tratta di una roba straordinaria ovunque vada qualunque cosa faccia ogni cosa che dirà bella o brutta sbuccheremo gli altri in massa ad applaudire a fare il tifo per lei bravo lei è grande intornando il suo nome con cori da stadio dal vivo pensi che ultimamente sta andando di moda l'utilizzo di tale clamorosa gratificazione in camera da letto prima e dopo pare che sia utile per la percocità del beh ha capito no le piace il vostro social il nuovo mi ha convinto mi sa proprio che mi iscrivo ma le piace cosa il social le piace ma perché continua a chiedermelo perché in questo non siamo diversi dagli altri social network e perché ai nostri investitori interessa soltanto che lei dica mi piace grazie a tutti grazie a tutti